ciao a tutti ragazze oggi un tutorial un po' particolare e diverso dal solito ovvero parliamo di rifiniture e nel caso specifico di fodere so che alcune di voi hanno delle difficoltà a fare le fodere uno perché è un po' più complicato non tutte hanno la macchina da cucire o magari non sono tanto brave anche se ce l'hanno e quindi la fodera resta un qualcosa che rifinisce la borsa e gli dà un tocco di classe di rifinitura di bellezza un po di più che la borsa è un po più curata quindi è una cosa diciamo abbastanza fondamentale io le fodero praticamente tutte perché appunto impreziosisce e dà maggior valore al lavoro che abbiamo fatto e quindi è un tasto un pochettino dolente per qualcuna proprio per questo abbiamo deciso di cercare di semplificarvi un pochettino la vita ovvero abbiamo realizzato delle fodere già pronte che sono queste qui che vedete sul tavolo di due diverse misure e in diversi colori in modo che la voi potete già direttamente acquistare la fodera già fatta già cucita e solo più attaccarla alla borsa e vedremo anche come fare per attaccare la fodera della borsa come cucirla allora innanzitutto queste fodere premessa sono realizzate tutte a mano da una sarta quindi non sono di produzione industriale ma sono realizzate proprio a mano sono in un tessuto proprio un foderame di acetato e viscosa tutte tinta unita in diverse tonalità qui ad esempio vedete che ho il blu il bordeaux il panna il nero il grigio chiaro ci sono diverse tonalità da cui scegliere ed abbinare ai vari cordini con cui avete realizzato la borsa e sono tutte munite di taschino quindi all'interno hanno due taschini vedete qua due taschini porta cellulare portafazzoletti per mettere le chiavi quello che desiderate e hanno due misure che le misure vanno in base alla dimensione del fondo e sono le due misure diciamo stan più o meno standard dalle più utilizzate nelle borse ovvero 30x10 e 24x8 questa è la misura più piccola 24x8 e l'altra 30x10 hanno il soffietto e quindi sono abbastanza versatili se avete diciamo che se avete un fondo che misura 31x9 e mezzo va benissimo questa fodera certo che se avete un fondo che misura 36x12 ovviamente non va bene però sono quel centimetro di gioco appunto c'è sono così come vi facevo vedere prima e adesso vi faccio vedere in una borsa come andremo a cucirle noi facciamo spesso appunto come dicevo queste queste fodere con la cerniera attaccata per fare la chiusura della borsa queste sono sempre fodere come vi dicevo e fatto esattamente come prima hanno i taschini sempre all'interno vanno con la misura del fondo della base e però in più hanno in cima questa chiusura queste fodere le realizziamo solo su ordinazione quindi sul sito nella sezione fodere troverete queste già subito pronte in pronta consegna che potete acquistare e invece queste qui le potete ordinare sempre sul nostro sito però ci vuole qualche giorno in più perché dobbiamo avere il tempo di realizzarle e poi dopo ve le manderemo insieme al resto del materiale di cui avete bisogno ok quindi volendo c'è anche questa opzione di fare la fodera con la cerniera incorporata in modo che quando andate ad attaccare la vostra borsa avete già anche la chiusura senza dovervi più preoccupare di mettere le calamite o quant'altro se invece vi servono vi serve semplicemente una fodera perché avete chiuso la borsa in un altro modo ci sono queste da poter utilizzare quindi adesso vediamo come vanno cucite vi faccio vedere a cucire una fodera all'interno della borsa allora una cosa che non vi ho detto prima le fodere hanno un'altezza standard che se vi vanno bene le potete attaccare così come sono lunghe tutte altrimenti nel caso fossero lunghe potete risvoltarla quindi la dovete sverciare così da fuori in modo che andate ad abbassarla e a renderla della misura che vi serve senza doverne cucire né niente e da dentro non si vedrà assolutamente nulla ok quindi adesso io vado a inserirla in questa borsa era già foderata non fateci caso vi faccio solo vedere come si attacca perché adesso non ho una borsa sotto mano senza fodera quindi io ho preso questa qui di misura la devo abbassare un pochettino perché ce l'ho alta quindi come vi dicevo lascio la risvolta faccio la risvolta vedete in questo modo e adesso vediamo subito di andarla a cucire quindi le inseriamo all'interno della borsa nella della misura che ci occorre dopodiché dobbiamo munirci di un filo possibilmente di poliessere noi utilizziamo questi qui della gutterman se ne avete bisogno e li trovate sempre sul nostro sito c'è tutta la cartella colori sono più di 300 e potete scegliere la tonalità che più vi si addice inseriamo il filo all'interno di un ago e adesso vediamo subito come andare a cucire allora premessa tutte le nostre fodere sono fatte con soffa doppia quindi questo vi facilita nell'attaccatura perché perché c'è la possibilità di nascondere il filo e far sì che questo non si veda allora con l'uncinetto con l'ago vado a inserirmi qui in un punto della borsa e faccio passare il filo e nascondo il nodino voilà dopodiché mi inserisco nella mia fodera ma vado a prendere solo il primo strato e non entro nell'ultimo in modo che vedete l'ago passi così ma che non si vede dall'interno in modo che andiamo a fissare ea cucirci attaccato alla nostra borsa ma senza dover far vedere il filo all'interno quindi all'interno resterà la fodera pulita pulita senza neanche vedere i punti di attaccatura quindi adesso di nuovo passo in una maglia del corpo borsa e poi rientro prendo anche due maglie per dare maggior stabilità rientro così nella fodera senza sempre vedete prendere l'ultimo strato tiro e vado a fissare vedete che ho già fissato questo primo pezzetto e questo è il procedimento per andare a cucire la fodera dovete cercare di fare il punti più il più vicino possibili per dare maggiore robustezza quindi di nuovo entro all'interno della borsa e poi prendo di nuovo la mia fodera esco in questo modo trasversale vedete e questo mi permette di prendere solo il primo strato e non il secondo e di fare una cucitura il più possibile invisibile vedete che dall'interno si vede nulla mentre qui sto andando ad attaccare e a cucire quindi di nuovo vedete passo in un punto del corpo borsa e poi mi inserisco in orizzontale in questo modo con l'ago attraverso la fodera prendo e tiro quindi l'intero procedimento per attaccare la fodera su tutti i lati è questo nulla di complesso ci vuole un attimino di tempo e dopo di che vedete che ad esempio questo abbiamo attaccato qui questo pezzettino insieme ed è bello fermo che non si muove mentre qui invece ce l'ho ancora staccata ok quindi bisogna procedere in questo modo per tutti i lati fino ad aver attaccato la fodera dopo di che lei resta in questo modo e ad esempio qui da questo lato ci sarebbero i taschini ok li vedete voilà quindi è anche molto semplice attaccarla la stessa cosa succede per le fodere con la cerniera le fodere con la cerniera restano in questo modo quindi qui si dovrà aprire la cerniera passare con la mano così all'interno poi si va a cucire questa parte qui alla borsa al corpo borsa qui un pochettino i punti si vedono perché per forza devono stare qui da fuori vedete che un pochettino ma proprio veramente poco 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 si vedono e qui con l'ago dovete appunto passare così attraverso la fodera e poi attraverso la vostra borsa vedete un pochettino in diagonale dovete passare con l'ago in questo modo potete aiutarvi anche con la mano passando da dentro per questo vi ho detto di aprire la cerniera perché vi sia più comoda e dopo di che andate ad attaccare facendo dei piccoli punti in questo modo vi consiglio di attaccarla da fuori e non da dentro perché altrimenti non tiene la sufficienza quindi dovete attaccarla così passando con l'ago in questo modo sempre dal di fuori quindi tanti puntini vicini il più regolare possibile cercate di farli alla stessa lunghezza poiché questi un pochettino si vedono per non fare un punto lungo o un punto corto che poi stanno male a vista cercate di fare dei punti regolari e questo è quanto anche per attaccare le fodere con la cerniera spero che questo tutorial vi sia stato utile fatemelo sapere nei commenti e se desiderate altre cose simili a queste tipo trucchetti per le rifiniture varie scrivetemelo e vedrò di accontentarvi grazie ciao un bacione a tutte